Professor Tirelli, lei si sta occupando in particolare di Longo Covid, cioè di quelle patologie che il virus lascia ai pazienti per molti mesi dopo la malattia. Quali sono le terapie principali per questa sindrome? Intanto va detto che è un problema veramente molto serio, a tal punto che il Lancet qualche giorno fa ha intitolato un suo editoriale con Capire il Longo Covid è una sfida medica moderna veramente molto importante. Fu Anthony Fauci il primo a ricordare che dopo la guarigione del Covid un certo numero di persone sviluppavano una sindrome caratterizzata da spossatezza, dolori muscolari e articolari, nebbia nella testa, febbricola, ecco per coloro che avevano avuto anche polmonite o altri sintomi importanti che avevano richiesto il ricovero, anche disturbi del respiro, persistenza di disturbi dell'olfatto e del gusto quando questi erano presenti. C'erano però, diceva Fauci, sia dei pazienti pauci o asintomatici e pazienti invece che avevano avuto un Covid molto severo. E quindi questa situazione sta veramente colpendo un 10-20% della popolazione che ha avuto il Covid e che sono guariti. E i dati che abbiamo noi a disposizione, che stiamo pubblicando nell'ambito della società scientifica italiana di ossigeno-zonoterapia, la SIOT, che è in press il lavoro proprio su una rivista importante a livello internazionale insieme al professor Franzini, Valdenassi, Chirumbolo, nelle varie città e cliniche del nord, abbiamo messo a punto, noi abbiamo coordinato un po' la Tirelli Medical Group di Pordenone, con l'ossigeno-zonoterapia abbiamo avuto dei risultati veramente molto buoni, il 70% dei pazienti ha avuto un beneficio dei loro sintomi veramente severi. E quindi noi speriamo che questo sia un trattamento insieme alla riabilitazione e altri interventi che possono essere fatti a seconda dei sintomi che il paziente può avere. Ma per esempio il Lancet recentemente ha presentato un altro lavoro, un lavoro molto importante, che dice che coloro che hanno avuto il Covid e si sono vaccinati con due dosi di vaccino, hanno un rischio di sviluppare una long Covid 50% in meno di probabilità rispetto a coloro che invece non si sono vaccinati. Quindi pare che anche fare il vaccino, diciamo, riduca o diminuisca il rischio di avere questi problemi molto severi. Guardate che molti pazienti che io ho visto e che sto vedendo dicono che è molto peggio dopo che durante l'infezione, in particolare ovviamente coloro che non sono andati in ospedale, hanno avuto una malattia paucisi con pochi sintomi e questi sono la stragrande maggioranza ovviamente, sappiamo. Grazie professore.